Sono un vero e proprio esercito, senza dubbio la più grande nuova industria della provincia di Arezzo, le badanti. Il lavoro di cura in ambito domiciliare ha avuto negli ultimi dieci anni una crescita fortissima. Il numero delle collaboratrici e dei collaboratori familiari registrati all'Inps di Arezzo a fine 2010 è di oltre 6.350, ma sulla base della rilevazione effettuata da Caritas e Istat e rielaborata da Irz, la quota del lavoro emerso corrisponde a circa solo tre decimi del totale. Coinè ha messo a punto il progetto Il Filo di Arianna per promuovere l'innovazione, lo sviluppo, la qualificazione dei servizi domiciliari attraverso la regolazione del lavoro delle cosiddette badanti. Nel nostro territorio gli anziani sono sempre di più, sono sempre di più le persone vulnerabili, fragili, non autosufficienti. L'attuale sistema non riesce a far fronte adeguatamente alla domanda. Quindi abbiamo sviluppato prima in cooperativa e poi nel confronto col sindacato un percorso progettuale che mira a aggregare le collaboratrici familiari in associazioni professionali, a dargli un contratto collettivo, a far emergere il lavoro nero e a integrare questi profili professionali con i profili che già usualmente per le cooperative operano, cioè gli infermieri, i terapisti, gli assistenti domiciliari. Noi pensiamo che le cose che questo progetto propone, come ricordava Peruzzi, hanno quelle priorità che veniva ricordata dalla cooperativa Coenè, alla quale noi mettiamo insieme un criterio che è quello del godimento e la fruizione dei diritti sia dei lavoratori che degli utenti ad avere delle questioni regolari per la loro migliore stabilizzazione.